Terzo impegno settimanale per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che sabato 10 aprile ospiterà la Synergy Basket Valdarno per la penultima giornata della prima fase di Serie C Gold. Nonostante siano già tagliati fuori dalla corsa i primi due posti, gli Amaranto cercano di dare continuità alla convincente vittoria ottenuta mercoledì sul parquet della capolista e fino ad allora imbattuta Virtus Siena. In questa breve stagione, infatti, la SBA non è riuscita ad ottenere due successi consecutivi, fattore che ha inevitabilmente condizionato la classifica degli aretini fermi a quota 4 punti, affiancati proprio dalla Synergy Valdarno e dalla Fides Montevarchi, alle spalle di Virtus Siena e Legnaia Firenze, lanciate alla qualificazione della seconda fase per la promozione. Arbitri della partita, che sarà trasmessa in diretta streaming anche sul canale di Arezzo TV a partire dalle 18.30, saranno Natucci di Bagni di Lucca e Forte di Siena.